Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Ho pensato oggi di raccogliere insieme tutti i libri che ho ricevuto nell'ultimo periodo perché è stato il mio compleanno e dimostrarvele visto che sono un po' vari, di genere diverso, e mi sembrava carino insomma parlarne insieme in caso qualcuno di voi già ne avesse letto qualcuno e potesse darmi qualche consiglio. Allora, io ho mandato una lista in realtà, ma molto più lunga di così, e quindi è stato comunque bello ricevere libri che non sapevo quali fossero ovviamente perché non mi sono fatta dire quali erano stati i scelti della lista. E il primo è Il giunco mormorante di Nina Berberova. Ne avevo sentito parlare su Instagram, non mi ricordo esattamente da chi, ma ultimamente sto seguendo molti profili che parlano di letteratura slava e questo appunto mi era saltato all'occhio. La traduzione, leggo qui, è di Donatella Santelia e niente, non so molto di questa scrittrice, ma mi sembrava un modo carino per appunto cominciare a conoscerla visto che è un libro veramente brevissimo e appunto non ci vorrà molto per leggerlo. Poi mi è stato regalato un libro che è appena stato anche pubblicato in italiano, vi lascio tutte le informazioni perché adesso non mi viene in mente come si chiama, ma credo forse le divoratrici, di Lara Williams. Io questo l'avevo già appuntato quando era ancora uscito in Hardback, tempo tempo fa e dovrebbe essere una storia molto particolare, incentrata su questo gruppo di donne, credo, dove semplicemente si decide di fare una sorta di club dove si mangia e si dà sfogo a tutto quello che a livello di società non è concesso fare alle donne, ma non so molto altro. So che appunto ne avevo sentito parlare molto bene, aveva vinto anche il premio del Guardian che fanno sempre ogni anno in un certo senso in opposizione al Booker Club e questo appunto aveva vinto quell'anno lì, quindi sono molto curiosa di vedere appunto come viene sviluppata questa idea di questo club un po' particolare. Poi mi è stato regalato un libro su Gianni Celati che si chiama Traduzione, Tradizione e Riscrittura ed è così, si presenta in questo modo. Sembra molto molto interessante, sono tutti saggi appunto su Gianni Celati e la traduzione, visto che lui ha tradotto tantissimi autori, fra cui ultimamente anche Joyce e io avevo appunto analizzato la sua traduzione dell'Ulisse nella mia tesi laurea magistrale, quindi giustamente mi è stato regalato questo e sono molto curiosa, ci sono diversi articoli e saggi di altri studiosi, quindi sono molto curiosa. Un altro libro che mi è arrivato e che avevo messo nella lista per colpa di Instagram di nuovo, di una serie di profili, fra cui credo ci fossero anche le Slaviste con Rossetto, ma potrei sbagliarmi, in ogni caso vi lascio giù in descrizione tutti i profili che hanno un po' contribuito a farmi venire voglia di leggere libri che probabilmente sarebbero al di fuori del mio radar, fra cui appunto I Cinocefali di Alexei Ivanov nella traduzione di Anna Zafesova, che è abbastanza grosso e dovrebbe essere una sorta di thriller un po' particolare ambientato in Russia, che da quello che ho capito dovrebbe riprendere anche un po' certi capisaldi, in un certo senso, della letteratura russa e riprendere certi avvenimenti storici, ma non so molto in realtà. Ultimamente cerco di leggere pochissimo sui libri che mi interessano, giusto qualche spunto, qualche sprazzo qua e là, ma non voglio entrare in una storia sapendo già molto, perché poi mi faccio un sacco di aspettative, mi immagino cosa potrebbe succedere e puntualmente poi mi capita di non apprezzare così tanto un libro per colpa mia, perché mi sono fatta dei viaggi e questi viaggi non sono stati rispettati dall'autore, non mi sembra molto corretto, non mi sembra l'approccio giusto, preferisco appunto buttarmi in un libro sapendone giusto il minimo, indispensabile, per capire se può essere nelle mie corde o meno e questa cosa mi sta regalando tantissime soddisfazioni, perché mi sembra appunto di apprezzare molto di più l'opera, perché sono priva di una serie di preconcetti che potrei farmi altrimenti. Il libro successivo è Prede di Gabriele Filto Shiba, non so bene come si pronunci, traduzione di Federico Zaniboni e questo è sicuramente colpa di Marika, cioè la post moderna, sia su YouTube che Instagram, perché ne ha parlato moltissimo e mi ispira veramente tanto. Da quello che ho capito dovrebbe essere una storia molto particolare e l'autrice stessa è una persona che ha deciso di semplicemente prendere su, andare a vivere in un posto remotissimo del Canada e vivere così di quello che la natura ha da offrire in un certo senso. Dovrebbe essere una storia molto particolare in cui si parla del rapporto fra l'uomo e la natura, dovrebbe essere, come si dice, ispirata anche comunque da un certo tipo di femminismo antispecista. Non sono di nuovo sicurissima di tutto questo perché appunto, come dicevo, cerco di non leggere troppo prima di buttarmici dentro, ma vi rimando al video di Marika dove ne ha parlato così e se volete avere informazioni in più potete trovarle lì. E per concludere la carrellata libri, poi passare alle graphic novel, ho anche ricevuto Romanzo di Londra di Milos Zernievski, direi, traduzione di Alessandra Andolfo. Mi sta piacendo molto, è la storia di questa coppia, marito e moglie, che dalla Russia arriva in Avveno Unito a Londra nel secondo dopoguerra. Sono però completamente spaesati, non solo perché chiaramente non sono inglesi, non parlano bene la lingua e è un mondo completamente diverso, ma anche perché hanno perso tutto, quindi da una vita anche di disfarzi e di viaggio si ritrovano a vivere in una di quelle cittadine satellite vicino a Londra, una sorta di quartiere dormitorio, perché ogni giorno le persone prendono il treno, vanno a Londra e poi a sera ritornano a casa. Non so più di tanto perché questo è giusto l'inizio che vi ho raccontato, però mi interessava molto vedere un punto di vista un po' diverso del racconto dell'immigrato a Londra e questo appunto sembra rispondere insomma a tutti questi miei desideri. Per passare invece ai graphic novel ne ho ricevuti veramente diversi. Il primo è The Fire Never Goes Out di Noelle Stevenson, lei è l'autrice di Limona, che mi era piaciuto tantissimo, è di Lambert James, di cui ho letto due o tre volumi, anche quello stupendo, e questo appunto è un memoir che lei appunto ha scritto, che ripercorre un po' in un certo senso la sua carriera, o comunque gli ultimi 7-8 anni della sua vita, dove spiega anche un po' il suo rapporto con diverse questioni legato alla salute mentale che l'hanno accompagnata un po' per tutta la vita. Poi ne ho un paio di cui in realtà non so molto perché non ne ho mai sentito parlare, uno è Girl Town di Caroline Novak, che però appunto è un'altra delle scrittrici di Lambert James, quindi per questo mi ispira molto. Dovrebbero essere più storie, quindi una raccolta di fumetti più brevi. Non so se sia di quel tipo di raccolta dove una storia viene ripresa da una storia successiva, non ne ho idea. Se qualcuno ovviamente l'ha letto mi faccia sapere. Come al solito, se trovo qualche informazione a livello di traduzioni o future traduzioni, ve lo lascio scritto qui in giro, nell'info box. Il secondo graphic novel di cui appunto non sapevo niente è The Impending Blindness of Billy Scott di Zoe Thorogood. E come da titolo dovrebbe essere appunto la storia di questa artista che sta mettendo in piedi una mostra, ma sa anche di star perdendo la vista. Se non erro, dovrebbe essere ambientata nel Regno Unito, quindi dovrebbe esserci anche una sorta di commento su quello che è il Regno Unito moderno, dell'austerity, di questi belli argomenti qua. E sono veramente molto curiosa di leggerlo. E poi, gli ultimi due sono due graphic novel di Tilly Walden, cioè Spinning, che so essere stato tradotto con trottole, non mi ricordo da chi, ma vi lascio le informazioni, che puntavo veramente da tantissimo e quindi sono molto contenta di avere fra le mani. Infine, l'ultimo, sempre appunto di Tilly Walden, è On a Sunbeam, che non sono sicura se sia stato tradotto o meno, è un altro ciccione, e sono veramente molto curiosa di leggerlo, perché ne ha parlato anche la Fred, Prismatic Tip 10, su Ultimo Videobooks. Si parla di spazio profondo, di personaggi queer, quindi sono veramente molto curiosa. E niente, questo è l'ultimo bottino di libri. Fatemi appunto sapere se ne conoscete qualcuno, cosa ne pensate, se li avete letti o meno. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!